Ucchiele, tempo di bilancio, il 2022 l'ha definito un anno tosto, come è andata? Fare un'operazione di continuo ordine è stata molto complicata, però ci siamo riusciti. Abbiamo realizzato, nonostante le difficoltà, nonostante la crisi, nonostante tutto, una caterva di opere pubbliche rilevantissime. Qui siamo nel nuovo comune che inaugureremo penso entro il mese di gennaio, devono finire un po' di sistemazioni esterne. Inaugureremo a gennaio il nuovo depuratore che dà un nuovo risanamento igienico-sanitario e ambientale di tutta la vallata e di tutti i comuni, di questi 50.000 abitanti. E poi a primavera inaugureremo il nuovo teatro Giovanni Santi a Bottega di Vallefoglia. E poi inizieranno i lavori sia dei nuovi 60 posti del Nido a Pian del Bruscolo, sia i lavori, non appena approvati i progetti, di innalzamento della palla di Unigi per far giocare la squadra di Serie A femminile a Montecchio, non più a Urbino, per 1.600.000 euro, 1.500 posti, 8 metri, le mura castellane a Colbordolo. Colbordolo sono stati fatti i lavori di metanizzazione e di depurazione per oltre 2 milioni di euro. Alle mie spalle qui al Monte di Montecchio sono stati risanati dei movimenti franosi e poi andranno in appalto altri 5 chilometri di piste ciclopedonali. Potrei continuare a raccontare per un'altra mezz'oretta tutte le opere che abbiamo. Quindi come vedete Vallefoglia è una città in fortissima crescita, nelle nascite e anche negli investimenti, nuovi capannoni, oltre che l'utilizzo di quelli che ci sono e quindi siamo sempre più la città del lavoro, la città dell'inclusione, la città della laboriosità, la valle del fare, non è un caso che abbia messo quel nome, l'abbia messo perché c'è voglia di fare, genialità e capacità di guardare al futuro con grande fiducia.